Pena arrivati, you know in quel di Tenerife stiamo aspettando il servizio in camera che ci porta da mangiare Piccolo Womb Tour, non è male Junior Suite, you know, ci si tratta bene Prima impressione, come ti sembra? Not bad Peggy18 È arrivato il servizio in camera Totop, andiamo con la principessa Hamburger, bacon, formaggio, abbiamo un bello champagne, piscinetta E qua si sta bene, se questo è fallire vorrei fallire ogni giorno signori Vi sta amare Wow, quanto sei sana? Poco Domeni, tutto bene qua, quinto e sesto bicchiere, ma lo reggo bene Com'è che faceva? Soglie il fuego che arve tu pie Prima giornata iniziata Dov'è che andiamo? Nei quad Giusto Questa è l'entrata dell'hotel, non è male Proprio davanti all'hard rock E niente, stiamo aspettando il taxi che ci vengono a prendere Eccoci Appena arrivati ai quad C'è uno con la giacca Mi sta bene, devo dire Come al solito su Eggo E qua ci sono i mezzi Non male Sei casa con questo Così è come andare a cavallo Prima pausetta di quad Ci siamo fermati qua La cosa più interessante che ho visto È la capretta Che lì Adesso andiamo a dare un altro euro così facciamo un'altra foto Sì, dai Guarda il fanno Sì La stai facendo partire? Sì, sì, è andato Va? Vai Ciao Che bella La vuoi portare a casa? Sì La vorrei tantissimo Guardala Ciao Fufi Chiede lì se posso portarlo alla casa Eh, mi sa di no Chiede lì se posso portarlo alla casa E mi sentire lì se posso portarlo alla casa Sì E' combattata C'è con le tue E' un bello E' un bello Devevevi Non è un bello C'è un bello Non è un bello Se la cosa ci mette, vedete. Come ti sembra la prima pressione? Non va. Freddo. Freddo. Eh, è molto freddo. No, sai cosa? È un mix. È un po' caldo che me. Allora, giù è caldissimo. Cioè che fai tre passi sei sudato. Sì. Devi usare il deodorante. Qui invece treni sembra di essere in Svizzera. Sì. Assurdo. Un netto capuccio. Eccoci. Sei pronta, princess? Sì. Oh, mio zio. Guarda qua. Sì. Not bad, signori. Fa cazzo. Lo ritiamo un po', tanto non so. Ci siamo, Gessky. Ci stiamo spiegando a voi come guidare. La princesa è su Per l'ansia perché il socio fa di stare a 50 metri di distanza E ogni giorno porta gente all'ospedale E poi fa anche che solitamente quando fai l'incidente Ti avviene sopra la moto d'acqua e è finita Poi fa proprio Se fai l'incidente La vacanza è finita Cappello da pescatore consigliato dalla Miss E gli occhiali anche Anche gli occhiali E' waterproof Funziona Sì sì no Di base non potrei firmare ma io ci provo signori Guardala come tutta concentrata patentata A parte che te li hai già invitato Ok signori ci siamo E' un po' fredda l'acqua eh però God damn bro Oh shit Consciuti e salti Ok signori E' un po' difficile guidare il jesky con una mano Guardate che bellezza Lei è dietro E qua è tutto ok Ora voglio fare una gasata E non si scherza un cazzo qua Che bello Ready donuts Yes sir What are you donuts? Prima mezz'oretta è una bomba Non ho parole Non pensavo c'è un passi così up E' assurdo bro Van veramente veloci Sto aspettando la princess Verrò mai lei si è messa a prendere il sole sul jesky E ora vi mostro la view Guarda qua che mezzo E' mandato GP a real life Abbiamo yes sir skin e jesky Yes sir skin e jesky Yes sir skin e vado a fatti jesky E' un po' difficile Ma io ci provo Porca troia Che è quasi cado L'avete visto Ora siamo a 102 trefotto E qua con il signore Con il signore Con il signore Con il signore Peccato che è la corretta La bambolina Vai vai casa Eh sono davanti Dobbiamo muoverci Sono davanti Dobbiamo gasare Vai Ok signore Abbiamo finito i jesky Ora invece dove andiamo Sul catamaro Io sono carico C'è un sole che Brucia Cioè qui o fa freddo E vuoi rinchiuderti O mi hanno fatto Le foto dei jesky Si Adesso ce le spariamo Ho lavorato un po' di Di bianco Niente io ho tenuto le calze E sono bagnato C'è un po' di C'è un po' di